Si è fuori dal progetto di protezione economica, di protezione legale, no? Quindi vi dovete trovare un lavoro, una casa che dovete pagare voi, no? E come funziona quando puoi... cioè, qual è la cosa più difficile? Proprio da quella parte è difficile, cioè, appena che c'è il permesso di soggiorno, cioè, devi andare via dalla struttura, che non hai... non sai dove devi andare, perciò gli danno anche la possibilità di stare alla struttura e non vengono convocati presto per l'audizione. Quindi è anche... cioè, è difficile perché loro devono stare, ascoltare gli operatori che gli stanno aiutando, gli stanno insegnando a... a come fare, a... a informare, a insegnarli per essere autonomi, diciamo, portando il corso italiano e inseriscono le garanzie a giovani, e ci hanno certificati e creano anche il rapporto amicizio con il... dove... dove vivono loro, in realtà, la città, con gli abitanti, e poi... piano piano, e appena che c'è il permesso di soggiorno, già se c'è gli amici magari dove... in cui ti possono aiutare, e poi... cioè, è anche difficile da parte di questi... di questi ragazzi che stanno nella struttura, perché a volte non gli stanno ascoltando, perché hanno fatto un viaggio molto duro, che hanno visto la... la gente che moriva, no... e... cioè, ce l'hanno fatta, stanno nella struttura, però... c'hanno anche dei pensieri che magari sono seduti sempre a casa, ma che faccio io qua? Si lamentano, sto qua da due anni, sto aspettando per me sul soggiorno, e non hanno voglia di andare a seguire il corso italiano. però gli operatori sempre devono stare dietro a insegnarli per... cioè, avviare proprio perché... Per spingere il rinato a giro. Per far capire, guarda, non è che devi stare in questo posto per sempre, devi imparare ad essere autonomo, cioè, aiutare se stessa. Ma secondo te perché è così difficile? Perché lo è oggettivamente? perché quello che uno vive durante questo viaggio, che dura tre anni, è così... è così terribile che è difficile dimenticarlo. È terribile? Guarda, io parlo... parlo proprio a me stesso. Io, per arrivare qui in Italia, ci ho messo un anno e sette mesi. quindi io ho vissuto tutto, cioè, c'è una parte che è più bella, che ho imparato tante cose, ho imparato, ho conosciuto tante culture diverse, magari ci spieghi da dove sei scappato, tu? Allora, io, in realtà scappare, io non sono scappato come gli altri, perché ognuno ha i suoi motivi, cioè, io ho la mia motivazione di cui ho lasciato proprio la famiglia. Io sono del Mali, del sud proprio, e ci sono, c'è ancora la guerra, ma non è che la mia parte che ci sono i problemi, dalla mia zona non ci sono i problemi. E io, in realtà, come mi dicono i miei genitori, mi dicono sempre che sono nato, sempre, sono nato diversamente dagli altri figli, perché io ho altri 21 figli, ah, altri 20 fratelli, scusate. E, però, ci sono delle modalità da noi, i regolamenti fissati, perché ci sono tante cose. Io, quando sono arrivato qui in Italia, ho capito che ci sta, ci sono tante, tante differenze tra l'Africa, soprattutto tra il mio paese e l'Africa, in Italia. Il mio villaggio che c'è, sia le leggi del capo di villaggio e anche le leggi della famiglia, del capo della famiglia proprio. Quindi, devi stare e seguire tutto. E io, a me, da piccolo fino a 15 anni, io ho sempre fatto come mi pare. Hai risultato sempre le regole e le tradizioni. Sì, e io non seguivo niente. E mi menavo, tutti quanti mi picchiavano, però, alla fine, a 15 anni, ce la faccio più. Tu eri il ribelle, praticamente. In realtà, sì, perché ero contro di tutte queste cose. Contro il sistema. Sì. E così ho deciso, guarda, a 15 anni, io ho detto a mamma, guarda, io non ce la faccio più, io ne vado. E da lì mamma si è messa a piangere, ma 15 anni, dove vai? Io, in Mali, proprio, non ci voglio stare. E vado a cercare un posto dove potrò vivere, cioè, nella libertà. Sì. Come vuoi tu. Ma sapevi dove dovevi andare? No. No. Così. Quindi tu, io vado via, hai cominciato a camminare, senza avere idea di dove andare? Ho sbottato lo saino, dove c'erano i quaderni per andare a scuola, ho sbottato, ho messo due pantaloni, due magliette e l'ho preso. Quindi nella tua borsa c'erano che cosa? Due pantaloni, due magliette, un documento di identità? Niente. No. Una fotografia? Niente. Un po' d'acqua? Eh, niente. Niente. Guarda, così. L'ho preso così. E visto che io ero sempre così, qualcuno comincia a parlarne con me, magari Bacar lascia stare questo, non è una cosa buona. Sì, o mi stai dalla mia parte, o io ti odio, e me ne vado. e quando ho deciso, uscendo da casa, tutti erano fermati così, mi guardavano, piangevano tutti, vicini di casa, gli amici. Beh, già lì, dopo due minuti, ho subito avuto l'ammancanza della famiglia, dei amici, e anche a scuola, ho avuto l'ammancanza. Però io, quando io dicevo una cosa, era questa, basta, faccio questo e lo faccio. Quindi allora, tu sei scappato non perché qualcuno ti ha costretto, perché sentirei dover fare questo. In realtà, mi stavano trattando male. Ti stavano trattando male. Sì, mi stavano trattando male. Però ci sono altri richiedenti che fugano proprio dalla guerra, tipo ci sono delle, il nostro ragazzo che è del Gawo, è dove ci sta proprio i militari, sempre, e sparano la gente, gli tagliano il braccio, la testa, c'è tutto, ma la mia era meno grave, diciamo, perché l'ho cercato io, potevo anche seguire le... Vabbè, ognuno ha la libertà di movimento, no? Sì. Questo l'abbiamo studiato. ho cominciato a camminare a piedi, no? Sono uscito da casa, camminavo a piedi, anzi, non avevo neanche scarpe, perché lei non è che... E quando le prese le prime scarpe? in realtà ho presso quelle ciabatte di mia madre, erano anche rovinati, erano anche rovinati, senza treni, senza treni, quindi passano ogni morte di padre, lascia stare. Io ho camminato per 29 km per raggiungere la città dove potevo iniziare a lavorare un po', però anche un ragazzo di 15 anni è difficile anche trovare un lavoro. Però grazie a mia mamma che io ho sempre... Vedevo sempre stanca mia madre, cioè lavora, le donne sono molto stanche da noi, fanno tutto, non hanno i diritti, diciamo, donne e bambini. E visto che mia mamma si occupava, tutta questa famiglia, cucinava, lavava i vestiti a mano, i scarpe, tutto, e io quando le vedevo fare alcune cose, e andavo ad aiutarlo. Anche sì, era un lavoro da donna, perché da noi esiste così, ma questo è un lavoro da donna, perché vai a fare essendo uomo? Ma aiutando mamma, ho iniziato a imparare perché mi ha servito, a imparare a cucinare perché mi ha servito. Io sono arrivato a quella prima città a piedi proprio, non avevo da mangiare né da bere, i soldi proprio non ce l'avevo, non conoscendo nessuno. Sono andata ad un ristorante chiedendo se mi potevano dare da mangiare, io cominciò a lavare i piatti. Va bene, alla fine l'hanno accettata, mi davano da mangiare, io lavavo i piatti. In Mali sempre? In Mali sempre. Alla fine, piano piano ho visto, prima che si apre il ristorante, facciamo preparazione tutto e il cuoco comincia a cucinare per tutti. E poi cominciamo a fare lavoro per la sala. e facendo quello, preparando la cena per quelli che lavorano al ristorante, io un giorno mi sono diventato i piatti che faceva mia madre. Mi sono messo avvicino a lui. e ha cominciato a cucinare. Sì. E dove dormi io? Fuori, per la strada. Fuori per la strada? Sì, sì, perché non fa freddo come qua. Tanto lui sa qualcosa. Ma non è pericoloso. No, no, non è pericoloso. Non è pericoloso. E niente, l'hanno assaggiato. Ma che buono, che buono. E mi hanno detto, ma possiamo fare il menù, facciamo uscire. E così sono diventato cuoco quel ristorante. E niente, però io non volevo stare in Mali. No. Perché io stavo avvicinando dove ci stava la guerra. Ma io ti posso fare una domanda. Tu la geografia dell'Africa, la conoscevi o eri scarso come noi, che non sapevi dove stavano i vari paesi? Cioè, tu lo sapevi che uscito dal Mali ci sarebbe stata l'Algeria, la Mauritania o il Niger? In realtà io non sono andata così. No. Io sono uscita da qui. Da dove? Dal Mali o questa d'Avorio? Questa d'Avorio. Questa d'Avorio, sono andata a Ganna, Togo, Benin, Nigeria e Camry. Perché volevo andare la fine equatoriale. Come mai? Cioè, in realtà a Desistitone l'ho preso quando stavo in questa d'Avorio. Quindi esistono dei flussi migratori all'interno dell'Africa. e quindi esistono dei flussi migratori all'interno dell'Africa. Grazie a tutti.